Benvenuti cari amici apostataci a questo nuovo video, oggi parleremo del ruolo della donna all'interno dei testimoni di Geova, ma per estensione potremmo parlare del ruolo della donna all'interno delle religioni maggioritarie di stampo abramitico insomma. Infatti voglio partire dalle scritture dove si potrà evidenziare il ruolo di sacerdotessa di alcune donne, quindi sarà sicuramente di riflessione a tutti coloro che aderiscono a queste religioni qua per fare una riflessione, per capire se la religione in cui stanno dentro effettivamente dà l'importanza alla donna come in certi scritti biblici. Poi sappiamo che all'interno della Bibbia c'era il patriarcato più spietato, lo sappiamo benissimo, però ci sono stati dei ruoli che hanno avuto delle donne proprio di ministro di culto. Le andremo a vedere oggi, poi ci sarà una seconda parte del video dove vi farò vedere qualche menzione di donne importanti, che però diciamo così, vengono utilizzate anche all'interno dei testimoni di Geova, queste narrazioni di queste donne importanti, come esempio di fede, però generalmente si fa sempre leva sull'esempio, su come la donna si deve comportare, su come la donna che segue Dio, queste cose qua. Oggi diciamo il target principale è proprio vedere il ruolo di ministro di culto della donna. E all'interno della Bibbia possiamo trovare degli esempi. Ci potrà servire, soprattutto alle donne, ripeto, credenti che sono all'interno di religioni, perché comunque queste cose che diciamo oggi possono essere di riflessione anche a contesti di altre religioni, e quindi non solo quella dei testimoni di Geova. E allora io partirei con la prima scrittura che vi ho preso, vedete siamo in Esodo 15, capitolo 15, e guardiamo la storia di Miriam, che io vi ho fatto vedere anche in un recente video, che vi lascio il link qua nelle annotazioni, dove vi ho fatto vedere un film che hanno girato i testimoni di Geova, che appunto parla della storia di Miriam, che era la sorella di Mosè che aveva questo incarico da sacerdotessa. Era una figura estremamente importante, era praticamente nei vertici, praticamente un gradino sotto, diciamo così, Mosè, una persona importante, una figura, possiamo dire, un ministro di culto, come potremmo dire oggi. Se Mosè era, come potrebbero fare un parallelismo i testimoni di Geova, se Mosè era il corpo direttivo del tempo, secondo la loro dottrina, sicuramente Miriam poteva essere una persona che lavorava, gestiva all'interno di una Betel, per esempio. Quindi aveva questo ruolo, chiaramente essendo anche sorella di Mosè, sicuramente c'era anche, sicuramente aveva questo ruolo importante anche per questo, però era chiamata profetessa, guida del popolo, con il canto, sapete che suonava quei tamburelli, che non so se si chiamano così, si chiama in un altro nome, e quindi danzava mentre che tamburellava. Era un'usanza che avevano le donne quando si tornava dalla guerra, quando tornavano dalla guerra gli israeliti. Però, insomma, dopo l'attraversamento del popolo ebraico, nel fatto del Mar Rosso, sapete che si dividono le acque, eccetera, eccetera, hanno celebrato la vittoria di Dio e, diciamo, questa di Miriam è una figura molto, molto importante di quella narrazione lì. Poi possiamo vedere, ora io, vabbè, vi ho preso il capitolo di Esodo 15, dove potete leggerlo chiaramente, vi prendo il versetto preciso, datemi un secondo che me li sono segnati, il versetto preciso era il 20-21, ci andiamo subito, 20-21, allora, la profetessa Miriam, sorella di Aronne, prese in mano il tamburello, tutte le donne la seguirono, suonando i tamburelli e danzando, e Miriam cantò in risposta agli uomini, cantate a Geova perché grande è divenuta la sua gloria, ha rigettato, ora io sto leggendo la Bibbia dei Testimoni di Geova, ogni volta che leggo il nome Geova so benissimo che è un errore, mi viene da dirlo, è un nome sbagliato, non ci dovrebbe essere, però questo è l'argomento di altri video che ho già trattato, quindi se volete informarvi sul fatto se Geova sia un nome corretto o no, ci sono altri video. Ora utilizzo ovviamente la Bibbia dei Testimoni di Geova dato che l'argomento lo faccio su di loro, quindi c'è un altro riferimento in Giudici capitolo 4 e a questo giro siamo a Deborah, che era descritta anch'essa come una profetessa e giudice di Israele, guida il popolo in periodi negativi che ha passato il popolo di Israele, ha dimostrato una grande autorità e saggezza e sicuramente è una figura centrale che Dio usa per liberare Israele dai nemici. Ora abbiamo come riferimento il versetto da 4 a 5, vedete qua, a giudicare Israele c'era in quel tempo Deborah, una profetessa, mica un ruolo possiamo dire importantissimo, cioè profeti erano, possiamo dire la voce di Dio, no? Pensate ad esempio al profeta che disse a Davide che aveva sbagliato, tutta una serie di cose, se non ricordo male era Nathan, vado a memoria, quindi a giudicare Israele c'era a quel tempo Deborah, a giudicare Israele, cioè a giudicare il popolo di Dio secondo la narrazione, quindi era moglie di Lapidot, era solita sedere sotto la palma di Deborah fra Rama e Betel, nella regione montuosa di Efraim, e gli israeliti salivano da lei per il giudizio. Voi immaginatevi oggi un uomo nei testimoni di Giova o nelle altre religioni che va da una donna per il giudizio. Io vi lascio un attimo, vi lascio qualche secondo per riflettere, questo video lo faccio per le donne che sono all'interno delle religioni abramitiche. Poi abbiamo un'altra scrittura, scusate sto guardando l'elenco, ho preso, eccoci qua, la profetessa Ulda, in secondo re 22 da 14 a 20, possiamo avere dei riferimenti, quindi secondo re da 14 a 20, così il sacerdote Ilchia, Achaim, Akbor, Asafan, della dinastia dei Kfnir, oggi non posso fare i montaggi ma vi avrei già messo il meme di Aldo Giovanni e Giacomo, quindi andarono dalla profetessa Ulda, moglie di Salum, responsabile del guardaroba e figlio Tikva, figlio Uras, insomma vedete che andarono dalla profetessa Ulda, un'altra donna con un incarico importantissimo, penso non ci sia nulla da aggiungere, se volete informarvi di più su queste figure basta che fate una ricerca, perché io oggi voglio darvi l'input per la ricerca, non è che voglio star qua a dirvi adesso vita, morte e miracoli di queste persone, però vedete che i riferimenti all'interno della Bibbia ci sono per capire che alcune donne avevano ruoli di preminenza all'interno della società degli israeliti, no? Adesso andiamo in un'altra scrittura, siamo a questo giro in Luca, ne leggeremo due di Luca, la prima è Luca, capitolo 2, versetti da 36 a 38, e leggiamo della profetessa Anna, quindi adesso siamo nel Nuovo Testamento, quindi sia il vecchio che abbiamo visto prima, ma abbiamo trovato anche riferimenti nel Nuovo Testamento. I versetti come vi ho detto sono da 36 a 38, e lo leggo, scusatemi, datemi un secondo. Ora c'è anche una profetessa di nome Anna, figlia di Fanuel, della tribù di Hazer, la quale era molto avanti negli anni, dopo essersi sposata, aveva vissuto con il marito sette anni, ed era ormai una vedova di 84 anni, pensate, cioè per il tempo era tantissimo, non si assentava mai dal tempio, rendendo sacro servizio giorno e notte con digiuni e suppliche. Quindi abbiamo un'altra profetessa di nome Anna, nel Nuovo Testamento, in secondo Luca. Non si assentava mai dal tempio, rendendo sacro servizio giorno e notte, in quel momento si avvicinò e cominciò a ringraziare Dio, parlando del bambino, cioè di Gesù, a tutti quelli che aspettavano la liberazione di Gerusalemme. Perché ricordo che al tempo si aspettava la liberazione di Gerusalemme, e con questo chi ha orecchi, chi ha orecchi in tenda, si dice, no? Adesso abbiamo anche una, in Luca, visto che siamo già in Luca, nel capitolo 24, abbiamo un'altra scrittura interessante, però questa un po' più dal punto di vista della narrazione, non tanto del ruolo che ricopriva formalmente una donna. Perché in Luca 24, da 1 a 10, abbiamo il fatto che delle donne hanno visto la resurrezione di Cristo e poi hanno avvertito gli undici apostoli dopo. Anche questo è importante comunque, perché invece, ve lo leggo un attimo, almeno rende di più l'idea. Videro che la pietra era stata rotolata via dalla tomba, e quando entrarono non vi trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre domandavano cosa fosse accaduto, ecco che due uomini, dalle vesti sfolgoranti, apparvero accanto a loro. Spaventate le donne tenevano il viso rivolto verso terra, al che gli uomini chiesero loro, Perché cercate fra i morti colui che è vivo? Non è qui, ma è stato resuscitato. Ricordatevi ciò che vi disse mentre era ancora in Galilea. Allora, poi vado un po' avanti, salto un versetto. Allora, le donne si ricordarono delle sue parole, tornarono dalla tomba e riferirono tutto agli undici e agli altri. Quindi, diciamo, questi uomini con gli abiti sfolgoranti, che possiamo dire hanno gli angeli, hanno avvertito le donne. Non sono andati dagli undici. Perché, diciamo, una società gerarchica come patriarcale, come fanno i testimoni di Gioia o altre religioni, avrebbe senso che, rispettando la gerarchia, questi uomini avessero avvertito gli undici, non queste tre donne. Tra cui, appunto, c'era Maria Maddalena, ora non le sto a citare, ma c'erano... le dicono qua. Queste donne erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria, la madre di Giacomo. Questo può essere utile, comunque, per farci capire tante cose. Lettera ai Romani, sono segnato Febe, che praticamente San Paolo la descrive come diacono della chiesa di Cencrea, e benefattrice di molti. Questo testimonia che le donne, appunto, già nelle congregazioni, al tempo, nella chiesa primitiva, come viene chiamato, potevano ricoprire ruoli importanti, non ruoli di pulizia, come all'interno dei testimoni di Gioia, ruoli in cui si fanno due scenette, recitate sul podio. Poi non si può insegnare, ma anche sull'insegnamento adesso vediamo un attimo, che abbiamo un esempio anche su quello. Comunque, qua, il versetto che volevo evidenziare era Romani 16 da 1 a 10, che dice così. Vi presento Febe, nostra sorella e ministro della congregazione di Cencrea, affinché l'accoglieste nel Signore in modo degno dei Santi, e le diate qualsiasi aiuto di cui abbia bisogno, perché ha protetto molti, me compreso. Poi vedete che dopo fa un accenno anche a Date i saluti a Priscilla e Aquila. Ci arriviamo, ci arriviamo a questi due, eh? Però, appunto, adesso entriamo, anche se l'ho già un po' sfiorata, le menzioni speciali, già da Luca, no? 24, in cui vi ho citato l'esempio, ad esempio, di Maddalena e delle altre, e poi arriviamo ad Atti, capitolo 18, dove si parla di Aquila e Priscilla, che vi ho detto prima. Praticamente, Priscilla è una figura chiave nella predicazione del Vangelo, nella formazione di Apollo, un predicatore che inizialmente non era completamente istruito. Adesso, se leggiamo il Atti, capitolo 18, versetto 26, vediamo cosa dice Apollo cominciò a parlare con coraggio nella sinagoga Priscilla e Aquila, dopo averlo ascoltato, l'ho preso, leggete bene qua, eh? L'ho preso con loro e gli spiegarono con maggiore accuratezza la via del Do di Dio. Quindi c'è un ruolo di insegnamento, benché ci fosse appunto suo marito, Aquila, c'è un ruolo di insegnamento da parte di Priscilla. E questo dovrebbe far riflettere le testimoni di Giova, ma anche chi è all'interno di altre religioni. Io adesso vi vorrei lasciare con questa domanda osservate il ruolo delle donne nelle altre religioni e chiedetevi se all'interno di queste religioni ci sono donne nelle posizioni di comando, ministri di culto, per esempio. Non ne trovate. Spesso mi vengono a dire alcuni credenti no, ma nel cattolicesimo qua, nel cattolicesimo là, le donne però sono inserite, ad esempio, nei ruoli istituzionali, sì, ma non dottrinali. Sono ruoli magari di gestione, che ne so, di edifici amministrativi così, ma la domanda che faccio io è chi ha ruoli di ministro di culto? Questa è la domanda e la risposta ve la lascio a voi. Però soprattutto volevo far riflettere i testimoni di Giova, perché loro millantano di essere la restituzione del cristianesimo primitivo che viene descritto nella Bibbia, quando in realtà vi ho fatto vedere da molto tempo che loro non sono in linea praticamente con quasi niente del cristianesimo primitivo, a partire da come vengono gestite le economie degli apostoli e di tutti gli adepti cristiani del primo secolo, ma anche come il ruolo della donna all'interno delle congregazioni, perché poi loro sono molto abili a fare questo cherry picking, cioè a prendere quelle scritture che danno contro al ruolo della donna, ad esempio la scrittura di Paolo dove si dice che la donna deve stare in silenzio ad ascoltare e imparare e non le permetto di insegnare, non capendo che quello era ovviamente il parere di Paolo, che aveva sicuramente i connotati in misoginia abbastanza importanti per utilizzare un eufemismo, però il punto è che in realtà ci sono poi altre scritture che ti fanno vedere che le donne avevano dei ruoli, certo, ce ne sono tantissime che lasciamo stare, cioè patriarcato, bisogna anche contestualizzare ai tempi in cui sono state scritte certe cose, però non vengono utilizzate queste scritture per dare il ruolo alla donna e io penso che prima o poi queste religioni daranno il ruolo alla donna, penso che lo faranno prima o poi, perché sapete, le religioni ci arrivano più tardi rispetto, no, nella secolarizzazione, no? Prima arriva la società con i suoi diritti e poi decine o centinaia di anni dopo finalmente arrivano le religioni a buona ora, sarebbe da dire, no? Benvenuti nel mondo reale, sarebbe bene dirgli, no? Perché poi dicono ah no no, ma noi siamo cambiati, sì, a voglia di essere cambiati, vi abbiamo dovuto trascinare a forza praticamente, perché sennò rimanevate nel medioevo, no? Detto questo, cari amici appostatacci, ci vediamo alla prossima, grazie di avermi seguito e la live non ci sarà oggi perché faccio questo video e sono in pausa dalla live ragazzi per motivi che ora non vi sto a spiegare ma preferisco stare un po' fermo questa settimana. Detto questo, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima, ciao carissimi e mi raccomando, dai, basta leggere le scritture, eh, sono lì. grazie a tutti.